Riprendiamo le fila della vicenda della pista ciclopedonale della Valle del Luio. Un riassunto veloce, cantiere sequestrato in estate, poi dissequestrato. Era rimasta in sospeso la questione del finanziamento regionale che doveva essere rendicontato entro settembre. Comune e Comunità Montana hanno chiesto una proroga, proroga concessa. Sì, abbiamo proprio ricevuto una settimana fa la comunicazione ufficiale dalla Regione Lombardia. Comunicazione che ci ha informato che la Commissione Proroghe della Regione Lombardia ci ha concesso una proroga di ben un anno sulle rendicontazioni dei lavori della pista ciclopedonale in Valle del Luio. Abbiamo tempo fino all'11 settembre del 2017 per rendicontare l'opera. Non si tratta della proroga dei lavori perché i lavori sono ormai conclusi. Bisognava solo procedere alla rendicontazione ma con il cantiere sequestrato era impossibile procedere alla chiusura del cantiere e a effettuare la rendicontazione. Siamo veramente soddisfatti per questa proroga. Un anno più che sufficiente per chiudere la partita. Con il cantiere ora dissequestrato abbiamo riattivato la procedura amministrativa dividendo in due binari la medesima. Stiamo procedendo per una compatibilità urbanistica per quanto riguarda l'aspetto meramente urbanistico e quindi chiudere il cantiere. La questione dei rifiuti viaggia su un binario differente e sarà la procura a portare avanti l'indagine in essere. Siccome il riporto di materiale oggetto dell'indagine non è funzionale, non è estremamente funzionale al percorso della pista può viaggiare su un suo binario indipendente. Noi nel contempo stiamo chiudendo la partita sull'aspetto esclusivamente urbanistico con questa compatibilità paesaggistica che ci permetterà a questo punto di chiudere i lavori e procedere poi a rendicontarli alla regione. Io, nella migliore delle ipotesi, penso che nel giro di due o tre mesi si possa davvero divenire una chiusura dei lavori e quindi una rendicontazione presso la regione. A breve, pensiamo a primavera, si potrà aprire la pista. Quello che conta è che comunque la pista c'è, è stata realizzata e che il finanziamento, oltre 300.000 euro da parte della regione, è stato salvato. Grazie a tutti.